Ecco, noi abbiamo questa peculiarità di questa domenica che incrocia la bellissima festa dell'Immacolata Concezione con la seconda domenica di Avvento. La liturgia ci presenta un melange di queste due liturgie perché, giustamente, come non celebrare l'Immacolata Concezione ma come dimenticare che stiamo in un tempo forte, nel tempo dell'Avvento. Ecco, allora leggiamo secondo l'Avvento questo tema che ci pone davanti il testo dell'Annunciazione. La visita, ecco, c'è una donna che è incastonata nel quadro della sua vita, è una promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di Rome Giuseppe, in una città ben precisa. Bene, tutte queste cose possono essere lette tutte in un'altra maniera. La sua realtà è una realtà che sembrerebbe essere, da un occhio esterno, leggibile come la storia ordinaria di una giovane fanciulla che sta per sposarsi, che si preparerà con un uomo peraltro di buona discendenza, ad una vita sana e buona. No, Dio ha pensato altro, Dio ha pensato tutta un'altra cosa, ha pensato che questa è la strada, è il luogo, è il posto, è la casa dove entrerà Lui. Noi abbiamo questo tempo dell'Avvento che sempre ospita felicemente la festa dell'Annunciazione come un perfetto paradigma dell'arrivo del Signore, della venuta del Signore. Infatti questa è la prima venuta del Signore, è l'ingresso, e l'ingresso è in una storia ordinaria, in un luogo normale. Questo luogo normale non ha un di più a partire da se stesso, ma ha un di più a partire dall'iniziativa del Signore. Questo è molto importante. Molto spesso noi crediamo che la vita cristiana e la sua novità siano qualcosa che dobbiamo stare a cercare dentro di noi, dentro le nostre qualità, dentro le nostre caratteristiche, e invece no, è l'irruzione del Signore che ci dà il di più. Questo potremmo obiettare, certamente, ma propriamente stiamo celebrando l'immacolata concezione della Beata Vergine Maria, cioè il fatto che lei sia stata preparata a tutto ciò, che lei sia stata preparata a questo avvento. Lei, e solamente lei, poteva accogliere l'irruzione di Dio nella storia, proprio per la sua concezione immacolata, proprio per il suo essere particolarmente dotata di grazia. Maria, ecco, è vero, ma in questo senso la sorpresa di Maria ci fa capire che lei prende consapevolezza della preparazione, come anche la Chiesa piano piano ha preso consapevolezza del dogma dell'immacolata concezione. Noi prendiamo consapevolezza dei doni che Dio ci ha fatto. Ci sono certi doni che si svegliano in noi solamente quando arriva il Signore. Scopriamo che tutto è preparato, quando ci sembrava tutto invece normale, scopriamo il di più, il soggiacente, proprio quando il Signore lo chiama ad essere. C'è in noi una grazia latente, c'è in noi una bellezza che solo il Signore sa tirar fuori. C'è in noi una vita che, logicamente, nel codice della verginità di Maria è impossibile, assolutamente. Proprio questa è la categoria della verginità di Maria. Della verginità in genere, biblicamente parlando, la verginità non è atteggiamento morale, etico. No, è semplicemente quel tempo in cui una persona ancora non è arrivata alla pienezza della femminilità, che è concepita come la maternità. Allora che succede? Questa verginità sembra una preclusione all'eruzione della vita. Ci uoiono delle condizioni ben precise. No, Dio sa trarre la vita dalla verginità. Dio sa trarre la vita da qualche cosa che non sappiamo di avere in noi, che è un dono di Dio, che è la nostra condizione di essere benedetti, amati, che è la nostra condizione di essere stati dall'eternità, disegnati per le nostre opere. Le opere a cui Dio ci chiama sono un po' come l'opera a cui è chiamata la Beata Vergine Maria. Sono opere straordinarie, ma non possiamo guardare a noi per capirle. Dobbiamo guardare a Dio. Maria guarda a se stessa e vede un'impossibilità, perché, come dice appunto qui nel testo, com'è possibile? Non conosco uomo, non posso farlo io questo qui. Questo lo fa Dio, ma lo fa in noi. Ovvero sia la festa dell'immacolata concezione fa presente tutta la generosità di Dio, di cui ancora non conosciamo veramente fino in fondo le implicanze, la lunga preparazione per la nostra vita. Quando ci apriamo all'opera di Dio, scopriamo che possiamo generare una vita impossibile, che possiamo vivere il regno di Dio in noi, nella nostra carne. Quando ci apriamo alla sua visita inaspettata, un turbamento che persino la Beata Vergine Maria vive, figuriamoci se non lo dobbiamo vivere noi, ma quando ci apriamo? Ecco, la nostra identità di servi del Signore si compie e noi vediamo la Sua parola in noi prender corpo, prender realtà. Apriamoci, in questo tempo dell'Avvento, a essere Tempio della parola di Dio, luogo dove Dio opera, luogo dove Dio sa creare novità. Noi siamo veramente quella creta che viene plasmata dal vasaglio e che di sé è povera, è umile, è niente. Noi siamo poveri, non conosciamo uomo, non possiamo dare la vita divina, non possiamo generare di più, non possiamo certo salvare il mondo, ma Dio può salvare il mondo per mezzo nostro, ci può plasmare, può tirar fuori da noi un'opera d'arte, può tirar fuori da noi la bellezza. In questo tempo proviamo a aprirci al fatto che quello che ci sta succedendo è un'iniziativa di Dio. Non dobbiamo guardare a noi stessi, ripetiamo ancora, per capire ciò che Dio deve fare in noi, perché lo deve fare Lui. molto spesso noi siamo di fronte alle cose della nostra vita, alcune magari anche un po' difficili, magari molto, molto difficili, e stiamo lì, fermi, impauriti, terrorizzati dalla grandezza dei nostri problemi. Ora, quello che noi possiamo celebrare in questa festa è che tutto questo sarebbe vero se ci fosse solamente la realtà e di fronte alla realtà la nostra povertà. Ma c'è Dio, c'è un di più, c'è il Creatore, c'è il Re dell'universo che sa tirar fuori dai nostri problemi la sua opera. Apriamoci alla vita, apriamoci alla visita di Dio, apriamoci al fatto che Dio è un Dio dei vivi, non è mai altro che Dio dei vivi, le cose sono sempre solo per la vita, tutto quello che ci succede è per la nostra salvezza e anche se qualcuno lo pensa per la nostra distruzione, Dio sa avvolgerlo al bene se ci mettiamo nelle sue mani, se gli diciamo di sì, se ci lasciamo condurre. Ecco, la venuta del Signore ha queste caratteristiche, essere portatori di una vita che solo Dio può generare ma la genera proprio in noi, proprio nella nostra esistenza. Proviamo a pensare che cosa vuol dire rifiutare queste prospettive. Allora, tutto quello che c'è, c'è la nostra iniziativa, la nostra bravura, la vita diventa mediocre, diventa brutta, non si può vivere senza straordinario, non si può vivere senza grandezza, non si può vivere senza il re che in noi prende vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.